Ciao Fabiana, benvenuta. Ciao, grazie. Ciao a tutti. Lascio subito la parola perché non vedo l'ora di prendere appunti per riuscire ad arrivare alla fine della pandemia senza uccidere marito e figlio. Grazie, ciao. Allora, insomma è inutile che vi racconti e vi spieghi il perché ho scelto di presentare e di proporre questo talk in questo momento e in questa meravigliosa edizione del Freelance Camp che come sempre è la migliore di tutti i tempi. Allora, credo che in un anno di pandemia sul tema Smart Family abbiamo imparato tutto quello che c'era da imparare, nel senso che siamo sopravvissuti, cioè siamo qui, siamo andati oltre, è passato un anno, ci stiamo guardando negli occhi e siamo tutti qui a partecipare a questo evento e sicuramente abbiamo oltrepassato tutti quanti almeno tre fasi che io ho provato a chiamare più o meno così. La prima fase del mi guardo a fianco e mi chiedo ma chi è questo? Perché sicuramente abbiamo imparato che stare 24 ore su 24 assieme a qualcun altro ci fa vedere cose che prima nelle serate, nel fine settimana o nel vedersi giusto a pranzo e a cena non avevamo sicuramente né visto né riconosciuto. La seconda fase che abbiamo tutti superato è la fase del ma in questa casa non c'è mai un attimo di privacy che è quella benedetta storia che porta poi a un pentimento cosmico sul porca miseria forse quella volta era meglio che rimanessi single. E poi abbiamo anche superato la fase del ma sei sempre in mezzo che a me ha fatto pensare un po' alla storia dei porcospini di Schopenhauer per chi di voi se la ricorda che insomma provava a dirci che sicuramente se stiamo troppo lontani non fa bene alle nostre relazioni ma anche stare troppo vicini ci crea qualche problema. Quindi ormai queste tre fasi le abbiamo tutte meravigliosamente oltrepassate e allora penso anche che in quest'anno ho voluto provare a tirare le fila delle mie esperienze e anche di quelle di molte altre persone con cui ho parlato e mi sono resa conto che tutte queste fasi sono state sicuramente più difficili, più complesse e più lunghe in maniera direttamente proporzionale al numero dei componenti del nostro nucleo familiare e alla superficie calpestabile della nostra abitazione. Per cui ho provato a esemplificare in un metodo che ho voluto chiamare il metodo SI le tre cose, i tre elementi da tenere presente se vogliamo sopravvivere e oltrepassare anche quest'altra fase che ci aspetta. Il metodo SI è un nome che mi è piaciuto ovviamente molto dare perché mi fa pensare al mare e io adoro il mare, solo la visione o nominare il mare mi fa stare molto bene e poi perché ovviamente è un acronimo dei tre elementi fondamentali. Parto dal primo, la S di spazi. Ce lo siamo già detto, mi fa molto piacere che ne abbiano parlato anche Silvia e Ivana questa mattina in apertura dell'evento, ci siamo tutti resi conto che gli spazi sono un elemento fondamentale, anzi vorrei dire essenziale e vitale e in particolar modo il fatto che ognuno di noi come membri della famiglia ha bisogno di spazi privati e ha bisogno di spazi funzionali. Il grosso problema è costituito dal fatto che la maggior parte delle nostre abituazioni non consentono spazi di questo tipo per tutti e allora per me ha vinto l'Oscar della soluzione migliore in assoluto che sono riuscita a recuperare quest'anno, la soluzione adottata da una famiglia che conosco, una famiglia di quattro persone che ha deciso di riorganizzare gli spazi domestici in una logica funzionale. Quindi hanno scelto di identificare all'interno di casa loro uno spazio, un'area che hanno chiamato l'area del silenzio che è lo spazio dedicato a tutti i membri della famiglia, quindi è frequentato da tutti i membri della famiglia che hanno necessità di uno spazio di silenzio, di massima concentrazione per lavorare, leggere, studiare, progettare o fare qualunque cosa che necessiti della tranquillità come elemento fondamentale ed essenziale per poter vivere in maniera funzionale quello spazio. Il secondo spazio domestico che hanno identificato è lo spazio delle telefonate che necessariamente deve trovarsi abbastanza distante dallo spazio del silenzio per ovvi motivi e che per loro si è configurato di fatto nella nuova funzione diurna della zona notte che è diventato appunto per tutta la famiglia lo spazio delle telefonate e in particolare hanno scelto di destinare a una funzione speciale quella tra le due camere da letto di casa che aveva un aspetto più ordinato, ovvero la stanza delle videochiamate per gli interlocutori un po' più formali e quindi è diventato a tutti gli effetti uno spazio prenotabile dai membri della famiglia per appunto pianificare le videochiamate con qualche controparte aziendale, clienti o anche scolastica, qualche professore in particolare per il quale era importante o necessario avere qualche riguardo dal punto di vista dello sfondo diciamo così. E il terzo e ultimo spazio era lo spazio diciamo così delle pause, lo spazio della chiacchiera un po' come il corner da cui siamo arrivati tutti poco fa e che si è configurato abbastanza facilmente nello spazio della cucina, quindi lo spazio in cui tutti coloro che hanno bisogno di un momento di break vanno a collocarsi oltre che per i pasti. La cosa interessante è che su questo spazio hanno fatto la scelta di gestirlo a turni dal punto di vista degli spuntini, quindi a turno ognuno dei componenti della famiglia ha il compito di preparare uno spuntino o un pranzo, predisporlo anche per gli altri che magari non sono lì con lui o con lei in quel momento perché gli orari spesso risultano sfasati in questa gestione funzionale della famiglia e degli spazi ma che rimangono lì a disposizione degli altri che poi faranno il loro break o il loro pranzo magari in un orario decisamente diverso dal nostro. Aggiungerò sicuramente dopo questa edizione del freelance camp anche la soluzione che ha raccontato Ivana che è la possibilità di avere diciamo così uno spazio di una scrivania in un co-working con abbonamento condiviso tra mamma e papà che poi si alternano per la cura dei figli a casa che mi sembra un'altra ottima soluzione molto interessante da tenere presente. Parlo di spazi fisici naturalmente perché sono un elemento importante ma parlo anche di spazi psicologici quindi quando parlo di spazio privato di cui tutti noi abbiamo bisogno mi riferisco anche a uno spazio psicologico quindi credo che sia importantissimo per ognuno di noi ricordarsi di concedere agli altri degli spazi di solitudine e di prendersi degli spazi di solitudine. Questo è molto legato al secondo elemento del mio acronimo quindi alla lettera E che sta per energie. Allora sicuramente credo che non possiamo dimenticarci e non ce lo dimentichiamo di sicuro che siamo in uno stato di emergenza e c'è un'altra E anche nella parola emergenza. Che cosa vuol dire trovarsi in un'emergenza da tutti i punti di vista? Beh allora stare in emergenza, vivere in emergenza significa che la vita, la vita ordinaria, la vita quotidiana è molto molto faticosa per tutti. Non importa che età abbiamo, non importa che mestiere facciamo, vivere in emergenza è estremamente faticoso per tutti. Va anche detto che quando siamo in uno stato di emergenza le nostre energie vanno investite per lo più nella quasi totalità nella sopravvivenza perché se siamo in emergenza il nostro primo obiettivo è necessariamente quello che vuol dire anche non avere spazio per la perfezione che è tutto un altro film e che è tutto un altro livello di vita passatemi il termine e credo che insomma capiate bene a che cosa mi riferisco e che cosa intendo dire. È fondamentale nella situazione di emergenza fare rifornimento di energie perché se non ci ricordiamo di fare riferimento di energie significa mettere già la firma, fare un abbonamento certo al cedimento strutturale nostro in prima battuta e di tutto ciò che dipende da noi e da tutto ciò che ci circonda, tutto quello che è intorno a noi avrà e subirà questo cedimento strutturale. Per cui siamo consapevoli del fatto che ci troviamo in una situazione in cui perfino uno come Buddha dico io perderebbe le staffe. È vero che dopo un anno ci siamo abituati ad alcune cose a portare la mascherina a non fare più le grandi tavolate con gli amici ahimè a non viaggiare più ma ci sono anche molte altre cose le quali non ci siamo abituati e sono le scuole chiuse e sono il fatto di sapere che oggi posso fare delle cose ma non essere sicuri che lo posso fare anche domani e sono i tamponi dall'oggi al domani perché ahimè oggi avevo cinque linee di febbre e devo correre domani buttare tutto all'aria a fare un tampone perché devo essere tranquillo. A queste cose non ci siamo abituati e in questo ultimo anno le tre azioni che tutti noi abbiamo fatto in maniera più ricorrente sono state cambiare, adattarsi e subire. E cambiare, adattarsi e subire sono le tre azioni più dispendiose in assoluto dal punto di vista delle energie. Ecco perché l'elenco per me delle quattro mosse che ti salvano la vita ha a che fare con uno mettere la perfezione in soffitta, due fare decluttering ovvero semplificare, semplificare, semplificare ogni nostra azione quotidiana. La terza è concentrarsi in questo momento più sulla gestione delle nostre energie che sulla gestione del nostro tempo. Quattro ricaricarsi. Bene, ultima ultimissima lettera del mio acronimo, la A. È una parola che con piacere ho già sentito in altri talk, la lettera A sta per alleanze e mi riferisco in particolare alle alleanze familiari. Allora sicuramente ne hanno parlato giornali, sono stati fatti studi, statistiche, trasmissioni televisive, articoli online, talk di tutti i generi. Oltre alle vittime della pandemia ci sono anche delle altre vittime che sono le vittime che io chiamo del lavoro domestico. E mi spiego meglio, sono ahimè purtroppo per lo più vittime femminili, di sesso femminile e sono le donne che hanno dovuto o hanno scelto di lasciare il lavoro in questa situazione. Certamente c'è stata una perdita di posti di lavoro anche per gli uomini, però i numeri che riguardano le donne sono veramente molto più importanti. O dico anche donne schiacciate e per schiacciate intendo dire sclerate, cioè esaurite da questa situazione. Il carico delle attività domestiche a cui mi riferisco non è semplicemente il fare le faccende, ma è quel famoso carico che a cui fortunatamente è stato dato un nome, adesso anche abbastanza condiviso, che è il famoso carico mentale, ovvero il carico di dover pensare alle questioni domestiche. È stato bellissimo, io sono molto affascinata sempre dalla linguistica, se provate a googlare carico mentale vengono fuori una roba tipo 5 milioni di risultati. Questa espressione che è entrata diciamo così alla ribalta più o meno un anno fa, proprio in questo periodo e in occasione di quando abbiamo iniziato a vivere questa esperienza tremenda, è un termine, un'espressione che se avessimo googlato due anni fa non so esattamente quanti risultati avrebbe prodotto. Però insomma oggi diamo un nome e un cognome a questa cosa di cui vogliamo parlare e credo che questo tema del carico mentale, oltre a essere un problema che affrontiamo oggi, anche per le aziende che stanno pensando al futuro dello smart working dopo che si sarà conclusa questa pandemia, credo che sia uno degli effetti collaterali più insidiosi da tenere presente, proprio perché è come la polvere nascosta negli angoli ma che c'è e poi è anche molto ingombrante. Dunque il carico mentale ha sicuramente tre ricadute, cioè va considerato un problema perché ha un peso, un costo per il matrimonio, per le relazioni familiari, ha un costo per la carriera e ha un costo anche per la salute. Ovviamente non ce la risolviamo qui ma credo che le tre chiavi di volta, i punti di volta che ci possono portare a creare e costruire delle alleanze familiari sul tema del carico mentale siano fondamentalmente queste. Il primo è rendersi conto che il tempo è uguale per tutti, tutti i membri della famiglia e il tempo di ogni membro della famiglia ha lo stesso valore, non importa l'età, non importa il mestiere che fai, il tempo di tutti ha lo stesso valore. Che occuparsi delle faccende familiari non significa solo farle, ma significa concepirle, pianificarle e eseguirle. E quindi quando ragioniamo sul tempo che ognuno di noi impiega nell'occuparsi di cose di casa dobbiamo pensare anche al tempo per ideare, per fare la lista, il tempo per pianificare e anche il tempo per eseguire. E quindi il dialogo tra le persone in famiglia deve considerare tutti e tre questi livelli. E lì arriviamo alla chiosa finale che è il fatto che collaborare, creare alleanze organizzate sul tema delle questioni domestiche è possibile e deve essere fatto perché non c'è un'altra chiave che ci possa portare a sopravvivere rispetto a questa situazione e a far sopravvivere le nostre famiglie. In conclusione, prima di salutarvi, anche se so che non ho risolto ma vi ho solo dato qualche flash, per chi ha voglia di approfondire quest'ultimo tema vi suggerisco un bellissimo libro che si chiama Come ho convinto mio marito a lavare i piatti e che racconta la storia di Eve Rodsky, questa consulente americana che si è resa conto che il suo matrimonio stava arrivando agli sgoccioli proprio per questa questione del carico mentale e ha inventato un metodo per riuscire a suddividere le faccende domestiche, anzi ha inventato un gioco, non un metodo, per riuscire a suddividere le faccende domestiche in maniera più equilibrata tra i membri della famiglia. Quindi magari al prossimo freelance camp parleremo anche di questo. Grazie a tutti. Grazie Fabiana. Adesso me lo leggo, poi così sperimento, vedo se funziona anche con il figlio, 15enne, dopodiché. Sì, sì, ci sono anche i figli coinvolti dentro, anche se il titolo è dedicato al marito, ma è interessante, è interessante. Perfetto. Grazie mille, davvero. Buona lettura, ci si vede dopo. Ciao, ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti.